Questa è la mia mamma! Perché sono così povera? E questo è il mio papà! Lasciala! Mai! Wow! Questa è la palestra più bella che io abbia mai visto! Ed ecco Edoardo, il nostro personal trainer! Non vedo l'ora di allenarmi! Inizierò con qualcosa di semplice! Eh? Ma cosa sta facendo? Il nastro non si muove nemmeno! Signorina, non ti rimetterà in forma in questo modo! Oh, capisco! Devo solo premere questi pulsanti! Wow! Sta diventando piuttosto veloce! Oh! Sto facendo fatica a tenere il patto! Era un po' troppo per me, credo! Grazie Edoardo! Ehi! Quello laggiù cos'è? No, non credo che le galline dovrebbero indossare i pantaloni! Oh! Sono sveglia! E' ottimo ritmo! Adesso prenditi una pausa! Oh! Com'è difficile tirarmi su! Dopo sarò tutta indolenzita! Wow! Ma hai impazzito del tutto! Non avrei mai pensato di divertirmi così! Ecco perché i ricchi sono sempre così magri! Questa palla è così gommosa! Le mie braccia stanno diventando così toniche! Guardale! Dove ci sono stanno adesso? Edoardo inseguila! Vieni con me, signorina Julie! Questo è un kettlebell ed ecco come si usa! Ok? Ora prova tu! Edoardo ha detto di andarci piano! Ciao mamma ricca! Stai andando alla grande, Julie! Mi pagano abbastanza per fare tutto questo! Non vedo l'ora di rimettermi in forma! Devo continuare a farlo girare per rendervielo più facile! Ora capisco perché le persone assumono dei personal trainer! Queste foto sono così imbarazzanti! Yuhuu! Cucu! Ma che strano! C'è qualcuna? Sorpresa! Adoro quando giochiamo in questo modo! Ti ho preparato del cibo! Wow! Sembra buono! Eh? Mamma, abbiamo finito il ketchup! Non preoccuparti, ci penso io! No, non fare così! Cosa scegli? Wow, porti tutta quella roba in giro con te! Questo! Buon appetito! Sembra delizioso! Sono pronta! Sono pronta per la scuola di clown! All'ambizione della mia vita! Tipico! È ora di divertirsi! Svegliati! No! Non la torta alla crema! Questo non funziona! Ma questo sì! Svegliati! Ma che? Chi c'è? Cosa sta succedendo? Dove sono? Oh! Meno male! Sono a casa! Non ho cibo! È vuoto! Guarda! Devo fare tutto io? Ok, dammi un minuto! Cosa stai facendo? È qui da qualche parte! Ah! Ecco qua! Oh! Mi ero dimenticata di questi! Tutto ciò di cui un ragazzo in crescita ha bisogno! Che schifo! Non ho finito! Ti serve della lattuga? Mmm! Buonissimo! Da quanto tempo stava lì? Sembra che ce ne sia ancora! Lo agiterò un pochino! Ehi! Occhio! Mira al panino! Non a me! Non esce! Oh! Credimi! È uscito! Tu hai qualcosa in faccia! Adesso vai a scuola! Farò da solo la prossima volta! È già mattina! È già! La mia bellissima camera da ricca! È ora di iniziare con la giornata! Eh? Pantopole! Tu chi sei? Oh! Un maggiordomo! Beve bene! Un po' di aiuto non guasta! È ora di lavarsi i denti! L'igiene dentale è fondamentale! Sì! Ok! Ma posso lavarmi i denti da sola! Ottima tecnica! Eccola un bicchiere d'acqua! Oh! Grazie! Adesso devo solo sciacquare per bene! Odio quando mi rimane del dentifricio sui denti dopo averli lavati! Devo assicurarmi di risciacquare per bene! Oh! Hai fatto il letto! Wow! Sei super veloce! Aspetta! Ma il dentifricio! No! L'ho bevuto! Che schifo! Avrei tanto voglia di fare colazione! Oh! Ecco qua, signorina! A tavola! Le serviranno delle posate! Ed ecco qua! Una colazione sana! Oh! Wow! Ma sembra buonissima! Devo subito assaggiare! Signora, si sieda, per favore! Ecco le posate! E il suo pasto, ovviamente! Grazie! Questi pomodorini sembrano così freschi! E mio! Questo cibo com'è buono! Oh! Ha già levato tutto! Cosa stai facendo? Le sto solo pulendo il viso, signorina! Oh! Allora, grazie! Bene! Questo pacchetto è pronto per essere spedito! Ah! Cosa stai facendo? Hai appena lanciato quel pacco! Oh! Wow! Una colomba l'ha preso! Sorprendente! Voglio provare io qualcosa! Uccello, prendi questo vaso! Oh no! È andato in frantumi! Ehi! Non preoccuparti! Posso comprare un altro vaso antico! Qualcosa non va! Che si dice? Lo sapevo! Non sono più attenta come prima! C'è soltanto una cosa da fare! È ora di pulire a fondo! Ecco che arrivo! Mi sento così viva! Quanta adrenalina! Nessuna pietà! Una casa pulita è una casa felice! Lo sporco è ovunque! Sì! Oh! Sono bloccata! Sono una vera macchina da guerra! Brava a me! Queste patatine sono così buone! Gabi? No! Metti giù quelle patatine lentamente! Eh? Cosa c'è che non va? Ehi! Tutto bene? Sei mia! Ora ti prendo! Con chi stai parlando? Metti giù l'aspirapolvere! No! Non ne vale la pena! No! 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 Smettila! Fa male! Per favore fermati! Oh no! Aspetta! Non riesco a toglierla! Perché stai facendo così? Le mie labbra! Le sento! Le sento! Ehi! Mi piace come le sento! Grazie! Ciao! Prendi questo! E questo! Quanto mi annoio a pulire! Wow! Sì! Spostiamo questo mucchio di vestito! Il pavimento è un ottimo posto! Questa mi starebbe bene! Oh la la! Sì! Oh no! No! Aiuto! Wow! Che fortuna! Immagino che qualcuno mi stia dicendo di non pulire! Questo cos'è? Nel mucchio vai! Ehi! Chi ha spento le luci? Ho paura! Mamma! Cosa stai facendo? Che se stai facendo! Che se stai facendo! Come, oh no! Grazie.